entra nell'area backstage su Disney Channel punto it avrai accesso a tutte le tue star preferite le ultime notizie curiosità e quiz scopri il dietro le quinte e guarda video e foto esclusivi troverai anche i testi delle tue canzoni più amate ovunque tu sia entra nell'area backstage su Disney Channel punto it